La Ciconfraternita del Carmine che si prepara alla Santa Pasqua 2017 con questa passione di Cristo. È un appuntamento che abbiamo voluto fortemente quest'anno, visto che l'anno scorso l'abbiamo interrotto. È una tradizione per la nostra Ciconfraternita questa Sacra Representazione che è da molti anni che noi siamo protagonisti e ogni anno ci avvaliamo di nuove forze. Quest'anno ci siamo avvalsi anche della collaborazione di altre associazioni come 2.0 Associazione Culturale di Gianni Todesco, Lanspi di Don Bosco della Parolta San Domenico e Cultura e Memoria Associazione Culturale. Come vedete anche quest'anno abbiamo aperto a queste associazioni. Noi siamo per il dialogo e siamo sempre aperti, diciamo, in qualunque manifestazione che noi faremo, la volontà è di fare comunione con altre associazioni e quindi questo ci rende veramente fieri di quello che facciamo. Questa passione di Cristo, cominciamo a introdurre quelli che saranno i temi principali che hai voluto mescolare in questa Sacra Representazione. Diciamo che quest'anno ho voluto fare una cosa leggermente diversa. Innanzitutto l'ho fatta sempre da una quindicina d'anni e ciò che mi ha colpito è stato il senso di partecipazione delle persone perché è una cosa che si sa, una cosa che la gente conosce bene, la passione alla morte di Cristo. Però ho sempre notato nella gente che ha partecipato, sia come figuranti, come attori o anche nel pubblico, un qualcosa che effettivamente mi ha emozionato. Infatti io la faccio per strada proprio per permettere un miglior contatto, una miglior visione e anche una partecipazione quasi intima perché, ripeto, si sa, però la gente lo vive bene. Poi quest'anno mi ha fatto molto piacere che sono stati coinvolti delle altre associazioni, degli altri enti, Cultura e Memoria, l'associazione culturale Ruvo 2.0 di cui io faccio parte e questo sta a significare che anche se il momento è conosciuto, vuole essere vissuto. Il fatto di aver coinvolto anche dei bambini, che io devo ringraziare, dei miei ex alunni, per creare un contrasto tra le immagini, quello che si sa di forte, con queste voci che sono molto sottili, che quindi questo contrasto praticamente dà spazio a ciò che è il bene e ciò che è il male. Una voce di un bambino, un'immagine così terribile. Questo rapporto con l'Arcico Fraternita del Carmine prosegue una varia e proficua collaborazione ma c'è comunque un legame intimo da parte tua. Beh sì, qui praticamente io diciamo che ho preso il posto, tra virgolette, di mio fratello, che non c'è più, perché Biagio è stato un partecipe, una persona estremamente sensibile, mi ha sempre invitato, io ho avuto la fortuna di lavorare con lui e poi devo ringraziare l'Arcico Fraternita del Carmine che mi dà questa possibilità di esprimere. Questa è un'espressione anche culturale in un particolare momento che è la Settimana Santa, che secondo me, io ne ho viste tante in Puglia, però credo che una delle più belle sia fatta a Ruvo di Puglia perché è molto sentita e quindi la partecipazione della gente è vera e autentica. Allora questo rapporto di cultura e memoria, questa bella sinergia anche in occasione della Santa Pasqua, non credo sia la prima volta che siete protagonisti durante questo periodo pasquale. Infatti per il Centro Studi Cultura e Memoria, a distanza di due anni, dopo l'evento Il Pianto della Madonna, quest'anno abbiamo voluto dare il nostro contributo, quindi la nostra partecipazione, alla confraternita del Carmine che ha ideato e porta avanti questa ormai tradizione. Il nostro contributo è proprio per dar modo di vivere la passione di Cristo e portare fuori, quindi per avere un riscontro ad ampio spettro con tutta la gente, insomma con tutto il territorio che si affaccia a questa settimana, prossima settimana santa. Poi parliamo del tuo ruolo di protagonista in questa sacra rappresentazione. Il mio ruolo di protagonista è quello, tra virgolette, più importante e per me è anche una prima esperienza, è quello di Gesù Cristo, quindi alla gentil richiesta del maestro Gianni Todesco non ho resistito e quindi ho dovuto volentieri accettare questa parte.